Sfuma a Gela la terza edizione del Festival Internazionale di Cinema e Poesia Versi di Luce 2017. Non ci sono soldi, alcuna disponibilità economica da parte dell'amministrazione comunale. L'iniziativa patrocinata dall'UNESCO, dal Ministero per i Beni Culturali, Direzione Cinema e dalla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema non si farà. L'amara constatazione dei fatti giunge direttamente dal presidente del Circolo del Cinema Stella Maris, Elio Cassarino, ideatore delle due precedenti edizioni. È un evento molto importante che l'amministrazione non può liquidare in così poco tempo. Noi abbiamo già instaurato un bellissimo rapporto con la Commissione Cultura, presieduta da Luigi Di Dio già nel novembre scorso. Abbiamo esplicitato l'importanza e il valore di questo festival, sia a livello regionale, perché è inserito nel circuito cinematografico regionale dei festival del cinema, e sia a livello internazionale. Per cui un evento di particolare fascino, di particolare levatura culturale. Ora, l'assessore Rocco Darba ci ha liquidato in pochissimo tempo, ci ha detto che non può sponsorizzare il festival, perché sta lavorando in dodicesimi e per cui non ha il tempo per poter seguire queste cose. E anche la Commissione Cultura, non potendo avere disponibilità economiche, anche quelli si sono rammaricati di non poter portare a termine questo bellissimo progetto. Elio Cassarino lancia un appello pubblico al fine di trovare sponsor che possano sposare il progetto ed offrire anche un ampio magazzino, in accomodato d'uso per tre giorni, per proiettare cortometraggi e videopoesie mondiali. Noi chiediamo all'amministrazione che valuti attentamente tutti i progetti e che comunque ci sia un rapporto più aperto, più costruttivo in ogni occasione e in ogni evento culturale. L'amministrazione comunale deve perseguire finalità culturali, artistiche, poetiche, che devono venire incontro alla città, ma per il vero bene della città. Non possiamo scendere a questi tatticismi o a questi giochi lontani da quelli che sono il bene della città. Io chiedo, noi chiediamo all'amministrazione, di instaurare sempre, durante tutto l'anno, periodicamente un tavolo di concertazione, dove insieme studiare le strategie migliori per poter migliorare l'offerta formativa e culturale di tutta la città. Chiediamo solo questo.